Ciao a tutti da LauraChips, dunque vi faccio questo video per annunciarvi che come ogni anno con l'asso nella manica, io e i miei amici youtubers abbiamo deciso di fare un contest, devo cambiare marcia scusate, un contest a premi ovviamente vi lascio in descrizione il link per andare a vedere di cosa si tratta e il regolamento mi raccomando partecipate in tanti perché in premio ci sono tantissimi tutorial di giochi bellissimi potete anche vincere uno dei mazzi di Harry Potter quindi insomma buona fortuna, ho attaccato i terzi cristalli per sbaglio e buon Natale